Vedere dal vivo venerdì sera al Bentegodi il debutto sfavillante di Correa con doppietta con la maglia dell'Inter mi ha riportato indietro la memoria di quasi 25 anni, 24 per la precisione, mi ha ricordato l'esordio nerazzurro del Cino Recoba che come il Tucu si è presentato segnando subito, segnando due gol bellissimi, regalando la vittoria alla propria squadra e infiammando immediatamente i cuori dei propri tifosi. E Recoba come Correa è un giocatore di talento impressionante forse non del tutto continuo, un giocatore divisivo per certi versi ma un giocatore in grado di scatenare la poesia su un campo da calcio ci sono però secondo me prospettive differenti per quanto riguarda queste due figure dell'Inter perché Recoba era uno straordinario orpello decorativo di una squadra talmente bella, talmente ambiziosa che poi non è mai stata in piedi fino in fondo e non è arrivata a conquistare quello che voleva prendersi Correa invece arriva come un'acquisizione estremamente lucida e molto ben fatta alla fine di un mercato che direi quasi possiamo definire miracoloso da parte dell'Inter perché l'Inter ha corso il serio rischio di sciogliersi in un'estate inizialmente molto dura da digerire con gli addi in serie dei punti di riferimento principali della campagna che ha riportato i nerazzurri a metterci lo scudetto sul petto ma in condizioni quasi proibitive la dirigenza ha fatto un vero e proprio capolavoro perché ha creato una squadra che non solo mantiene la mentalità della squadra che ha vinto ma una squadra che non si è indebolito, quantomeno non lo ha fatto in maniera lampante e può addirittura pensare di trasformarsi grazie anche all'arrivo del Tuku perché l'Inter di Inzaghi è un Inter che lascia intendere la possibilità di avere più libertà di interpretazione più imprevedibilità, più improvvisazione anche sullo spartito calcistico innanzitutto molto giusta la scelta di porre Lautaro come stella polare dell'attacco e di sostituire Lukaku con due giocatori perché ce ne vogliono due per fare uno come il belga ma due giocatori che si mettano loro ad integrarsi con il Toro di Baia Blanca uno è Gieco, Gieco del centravanti ha la struttura, la storia, anche il numero ma adesso è uno straordinario rifinitore del gioco d'attacco, un catalizzatore di palloni che li smista con grande classe Correa è quello che può organizzare il caos organizzato, perdonate il gioco di parole sul settore di sinistra che è il settore da cui l'Inter trae e trarrà sempre più le proprie principali fonti di gioco perché Correa è uno che galleggia fra le linee, Correa è uno che sa essere decisivo altrimenti non avrebbe debuttato peraltro con un gol di testa e uno di sinistro non propriamente i pezzi principali del suo repertorio è un giocatore che può incendiare e movimentare la situazione in più zone del campo da lì può convergere, lì può arrivare Cialanoglu che ha bisogno di spazi per essere mezzala incisiva in quest'Inter sa abbassarsi, sa associarsi, ma bisogna sempre di avere una fetta di campo per poter arrivare con il pallone o a giocare di prima o a cercare il tiro e questa fetta di campo gliela può aprire proprio un movimento convergente di Correa in più da quella parte c'è Perisic che sta giocando quasi da attaccante esterno più che da laterale a tutta fascia un crossatore seriale, dall'altra parte può arrivare Barella con la sua incisività sempre più totale insomma è un Inter che non scegliendo un altro vero e proprio numero 9 ma andando a prendere il giocatore che voleva Inzaghi, il giocatore che Inzaghi ha fatto fiorire definitivamente ha fatto una scelta di gioco, ha fatto una scelta di tecnica, ha fatto una scelta di imprevedibilità ha fatto secondo me la scelta giusta ora, la strada è molto lunga, è appena cominciata sia per il Correa Nerazzurro che per tutto il progetto tecnico di Inzaghi due vittorie sono importanti per confermare la mentalità ma ci saranno da fare passi ben più significativi dei successi con Genoa e della Sverona però direi che i primi messaggi sono arrivati e sono messaggi molto pesanti per questo campionato che sarà spettacolare e incerto fino alla fine l'Inter non abbassa le braccia l'Inter c'è in questa lotta, l'Inter è campione d'Italia, l'Inter rimane la squadra da battere il Tuku Correa è un giocatore che può veramente sublimare il gioco di questa formazione può diventare un idolo dei tifosi interisti e può assumere la sua dimensione definitiva non più un talento a volte fine a se stesso e non sempre continuo ma un giocatore importante, primario e decisivo in una squadra che parte per vincere